Grazie a tutti. 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 Cinque, sei. Ok, ok. The same, the same. Ok. Quindi che ci dici nel frattempo? Che ci dici nel frattempo? Fa un caldo che non potete immaginare. No, io sono qua anche. No, io sono qua anche. Nice. Fermiamo un po'. Ok. 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 Stantinos. ok 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 last divide when I open where I can put when I broke where I can put here also the white I use only I use only this I use I use this I use I use il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sì, uno ruolo. Plano. Uno ruolo. Eccolo. Fatto. Go! Eccolo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pasta fresca. Pasta. Grazie a tutti. Sì, sì, ma... Scott. Sì, sai, sai. Non è molto bene. C'è anche carmaroli di questo. Se puoi cambiare, è bene. Io spero. Gallo. Gallo. Risso gallo. Risso gallo. Risso gallo. Non lo so, mi conosco. Mi conosco. Non lo so. Chi è mi conosco. Io ricordo solo scolpi. Barilla. Ma non far voglio. Carnaroli. Carnaroli. Per risotto. Per risotto. Per risotto. Per risotto. Si, c'è un poigliotino. Per risotto, c'è un poigliotino. Tritiamo di鰉. La risotto. Piccolo. Per risotto. Poi che prima faccio. Per risotto ne ho. Grazie a tutti. 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 Sono adesso... Grazie a tutti. 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 Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Vediamo. Buon appetito. 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 Primo tempo quando mangiamo una carbonara vera, eh? Made in Italy. Made in Italy, bravo. Eh, devi ancora assaggiare, eh? Devi ancora assaggiare. Sì, 10 euro. Ah, guarda quanto è bello. Dai, in piedi, vai. Buon? 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 Oh, sorry. Ok. Vero, vero. Bravo, bravo. 10 euro. Dai, come vuoi? Questa pasta io mangio anni fa nell'Italia. Ecco. Nell'Italia, nel Roma. Nell'uno ristorante, non so come si chiama, però buono ristorante. Sono contento che ti piace. Non ti puoi sedere a mangiare, no? Non puoi sedere. Sede? No, no, no. Non più sto lavorando. Lavora, lavora. Lavorio. Beh. Tu sei lavorio per me primo rispetto. Allora? Per due persone. Solo Costantino siete. Venga, no? Solo Costantino siete? Guarda che si è. Eh? Povero. Si sente però che non è fermo giallo. Mmm. Non ce l'ho. 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 Cosa? Non ce l'ho in buon. C'è, c'è. Ve l'ha bensato perché con lo spaghetti amata benissimo. no io non la vedo, non la vedo la vedo? bello bellissimo 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 lo mangiamo tutti i giorni se fa cosa speciale speciale il giorno e anche noi preferiremmo stare qua domani ma ce ne dobbiamo andare della mia bimba la mia amore non è così mi facevi venire qua? perché non hai fatto venire qua per assaggiarla? facciamo noi qua non sapevi che la facevo no? non sapevi no? ok possiamo fermare ok quindi a posto? adesso andrei second round second round round 2 ma ancora? due, tre, quattro, quattro? cinque cinque nooo cinque solo cinque caldo quattro ok questa è? grande si mangia eh vedi vedi Costantino guarda guarda costantino costantino all'attacco l'attacco di Costantino bella 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 ecco ecco eccolo qua bravo 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 ciao grazie grazie grazie